ciao a tutti e benvenuti da tina e piperium e oggi siamo qui per recensirvi le nuovissime basi lego bravissimo pippo eccole qua ragazzi queste basi 16 x 16 centimetri quindi belle belle grandi che sono compatibili con i mattoncini delle migliori marche bravissimo noi abbiamo già preso dei mattoncini che abbiamo noi appunto per metterci sopra per metterli sopra queste basi per creare delle delle costruzioni molto molto belle allora apriamo ne abbiamo prese due una rossa e una verde allora queste qua sono della game shop edizioni allora c'è anche il magazine e costano 2,90 euro sia la rivista che la base mi posso dire una cosa seguiamo facciamo a decidi tu a quanti mi piace facciamo i due team dillo tu non lo so tanti tanti mi piace almeno 35 ok perché cos'hai visto ragazzi senza parola questo descrive tutto lo sapete già ok lui adora i pokemon qui allora vediamo un po mattoncini mania allora posso dire solo una cosa poi se volete spacchettamenti di yugui o non so cosa si usa ok allora ci sono di quattro colori e noi abbiamo preso quella rossa e quella verde però c'è anche gialla e blu quindi potete scegliere il colore che più vi piace allora giochi curiosità speciale costruzioni che passione ah qua la pubblicità dei cagottini che vi abbiamo recensito sono bellissimi vi lasciamo il link qua sopra i cagottini poi i mattoncini qua tutto parlo questi qua dei ble max appiccicaticci una nuova collezione quindi volete scriveteci nei commenti se volete questa recensione no ma c'è anche ghigio ah si è andato già lì ah ci sono di tanti colori è calcione ah ok c'è scritto base ok non hai trovato la base del colore che cercavi acquistala su cardgame-club.it quindi visitate anche questo sito qua dunque magari ve lo scriveremo qua sotto scusate ragazzi ma io devo solo appena una cosa ah ragazzi sono disponibili in dieci colori bianco, beige, grigio, chiaro, nero, blu, verde, rosso, fucse, giallo e arancio guarda io cosa ho portato vai quindi tantissimi colori veramente me lo tengo già a me no me lo devo tenere con l'angola che mi fa compagnia come mascotte poi qua ci sono tanti tanti giochini mi voleva che ho fatto c'è di te lego basta c'è un mando no no tieni Pippo allora e poi qua i calamiti carica anche questi qua me li abbiamo registiti li lasceremo sempre lì come ti permetti a buttare il mio ciammento? allora adesso iniziamo appunto le basi sono molto molto grandi guardate così prendeteli mi raccomando così anche voi avrete queste basi enormi potete costruirci sopra allora facciamo così le incolliamo così ah e ne facciamo una unica ok adesso iniziamo abbiamo chiesto le costruzioni mettiamo qua il tetto mettiamo qua il tetto mettiamo qua il tetto ok così allora va poi sotto mettiamo questo perché non... le due basi non si mettono una porta dagli inghessi dagli inghessi ragazzi vi posso dire una cosa eh? mi sono spaccato un lì solo questo che volevo dire mi sono spaccato un lì mi sono spaccato un lì mi sono spaccato un lì ecco qui la costruzione che abbiamo fatto bravissimo Pippo quindi eccola qua guardate veramente i mattoncini si adattano perfettamente non sono tutti della stessa marca tante altre tante marche però si adattano benissimo guardate che bello Pippo ha fatto questa... cos'hai fatto Pippo? ho fatto i body ho fatto anche le porte si bravissimo col poliziotto e invece io ho fatto le nostre iniziali quindi Tina e Pippo guardate che carina è bellissima ragazzi veramente queste basi sono bellissime ci potete mettere tantissimi tanti tanti mattoncini i vostri ragazzi ci sono andati in vacanza ah ok è andato ok ragazzi quindi mi raccomando acquistate anche voi inoltre oggi vorremmo salutare qui voi e in particolare Martina Mazzotta Aurora Catalano Rory Kawai Best Friends Laura Scortichini Aya Radi Chirene che è l'account Andrea Bonafede poi Santadotto Franco Villano Camilla Puntaba Mohamed Yasin Asoudi Martina Villani Linda Camarda Cristian Georgiev Raffaele Affinita ok Affinita no Affinita penso ok magari scrivicelo nei commenti poi Miaela Duma e Maria Di Donato quindi un grandissimo bacio a tutti voi ragazzi vi stringiamo forte 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 vi mandiamo un bacio enorme mua quindi se vi è piaciuto questo video mettete un bel pollice in su di tutto no vai dillo tu se siete nuovi iscrivetevi al mio canale così faremo tanti altri video condividete questo video con i vostri amici lasciatevi commenti extra extra bomba bravissima Pippo lasciateci bellissimi commenti come fate sempre noi vi ringraziamo tantissimo e quindi saluti da Tina e Pippo e vi c'è il prossimo video ciao ciao ciao